Portata bene, prendi il sole che fa bene alle ossa, parliamo di reumatismi e quando si parla di reumatismi vuol dire che l'età avanza o no. Facciamo luce con Ciro Vestita, medico fitoterapeuta e Carlo Semmi, responsabile di reumatologia e immunologia clinica presso l'Humanitas di Milano. Eccoci qua, ho detto bene o no il reumatismo legato all'età, professore? Molte delle malattie reumatiche peggiorano o compaiono con l'età, questo è il caso soprattutto della malattia più frequente che colpisce circa il 30% della popolazione che è l'artrosi. L'artrosi è una sorta di consumo dell'articolazione e questa segue innanzitutto la predisposizione individuale, quindi la storia familiare eccetera, ma anche l'età, il peso e quindi fattori su cui possiamo in parte intervenire. Lei è giovane, ma una volta si diceva mettiti al sole che fa bene alle ossa, è così per i reumatismi? Direi che in parte sia ancora vero, le nostre malattie, le malattie reumatologiche in generale, cioè sia l'artrosi, quelle più degenerative, sia quelle più infiammatorie, diciamo sotto il cappello generale dell'artrite, tendono ad andare peggio durante i mesi invernali e meglio durante i mesi estili. È vero anche dal punto di vista soggettivo che il sintomo principale delle malattie reumatologiche, cioè il dolore, tende anche a peggiorare con l'umidità. Quindi una delle frasi che vengono dette più di frequente sembra essere condivisa dalla maggior parte dei pazienti che soffrono di questo dolore. Quindi ci si può esporre al sole con le solite precauzioni relative alle scottature e ai dintorni? Certamente sì, la protezione adeguata dal sole va raccomandata a chiunque, compresi i pazienti che soffrono di una malattia reumatologica. Ce ne sono poi alcune, la più famosa è il lupus eritematoso sistemico, che per fortuna è una malattia rara, ma che fa parte di una famiglia, le cosiddette connettivite, in cui l'esposizione al sole deve essere limitata il più possibile, anche utilizzando per esempio indumenti con le maniche lunghe. 50 sfumature di reumatismi si fa presto, però bisogna distinguerle l'una dall'altra e non so quanto possa essere facile o meno. È abbastanza facile, diciamo che quello che una volta veniva chiamato reumatismo oggi comprende sostanzialmente due ingredienti. Uno, come abbiamo detto poco fa, è il dolore e questo è predisponente soprattutto nell'artrosi o in un'altra condizione cronica, quale la fibromialgia. Dall'altra parte abbiamo l'infiammazione. La combinazione in vari gradi di questi due elementi porta alle diverse malattie, in cui per esempio l'artrite avrà una netta predominanza di infiammazione, ma anche dolore, invece l'artrosi sarà prevalentemente il contrario. Ecco, che erroneamente vengono confuse, invece sono due cose diverse? Sono due cose molto diverse. Semplificando possiamo dire che nell'artrosi viene prima il danno dell'articolazione e poi eventualmente l'infiammazione, nell'artrite è vero il contrario, cioè è l'infiammazione a cominciare il danno che poi si può sviluppare a livello di una qualsiasi articolazione. Dopodiché diventa una convivenza ad libitum oppure ci sono terapie che possono bloccare? Qui ci sono molte buone notizie. Se è vero che parliamo di malattie croniche di cui difficilmente si parla al passato, cioè chi ha la bronchite dice io ho avuto la bronchite, difficilmente dirà io ho avuto l'artrite. Dall'altra parte oggi sull'artrite, in particolare sull'artrite romatoide o sull'artrite associata all'apsoriasi, noi oggi abbiamo dei trattamenti che permettono alla grande maggioranza dei pazienti di fare una vita del tutto normale. L'artrite associata all'apsoriasi? Sì, l'apsoriasi è una malattia della pelle molto frequente, in Italia ne sorpre circa il 3% della popolazione, più o meno un terzo di loro svilupperà anche una forma infiammatoria reumatologica che colpisce le articolazioni o altre strutture del nostro scheletro che va sotto il nome appunto di artrite psoriasica. Che curiosità dico questa, perché non solo l'artrite è anche l'apsoriasi che è fastidiosa al nome. Caro Ciro Vestino, abbiamo qualche storiella di quelle belle, per niente truculente. Allora, partiamo dal fatto che le sabbiature erano conosciute fin dall'antichità. Sono ancora usate, purtroppo non costano nulla, quindi quando la cosa non costa nulla viene sottovalutata. Nell'artrosi, adesso che siamo al mare, fare una sabbiatura fa benissimo, poi l'acqua di mare è considerata un potentissimo antinfiammatorio, parlo sempre di artrosi e non di artrite, e poi le terapie di un tempo. Noi siamo dei nani sulle spalle dei giganti. Mia nonna creava delle creme, delle tisane col peperoncino per far stare meglio le persone affette da dolori. Si riteneva una butada. Nel 2021 il medico statunitense Julius David ha vinto il premio Nobel per la medicina. Con la ricetta di nonna. Prego? Con la ricetta di nonna. Con la ricetta di nonna, prego, per gli studi sul peperoncino come antidolorifico. Ma dai. Certo che sì. Come si chiamava tua nonna, rendiamo merito. Allora, io dico sempre questo, se la patologia è piccola, molto piccola, prendere una tazza d'acqua bollente, fare una decozione con del peperoncino e del miele, può fare solo e soltanto bene. I risultati sono piccoli, piccolissimi, però col collega prima si parlava di capsaicina, che le nostre nonne spalmavano, eccetera. La storia, lungo i fiumi di Babilonia, qui sedemmo... Sì, aspetta un attimo, come si chiamava tua nonna? Mia nonna, Virginia, che Virginia non era comunque. Vai. Allora. Allora, lungo i fiumi di Babilonia, qui sedemmo, qui piangemmo, ai salici appendemmo le nostre cetre. Una storia molto triste. Praticamente Nabucodonosor, nel 700 a.C., deporta gli ebrei sul fiume Tigre e Deofrate. Bene, c'era una umidità pazzesca. Pare appunto che si siano salvati usando il salice come antireumatico. Tieni conto che dal salice è poi stato creato quel famosissimo farmaco. Acido salicilico. Acido salicilico, quindi loro ci vedevano bene. Il salice non si chiama piangente, perché ha un cascame di foglie che casca, ma da questi episodi molto tristi. Pare che loro abbiano salvato le loro articolazioni usando una metodologia egizia, che era quella di fare infusi e tisane di salice. E ancora adesso sono attuali. Grazie. Quando il cane sta male, va a mangiarsi la gramigna, va a mangiarsi il salice. Quindi loro istintivamente sanno quali sono le terapie migliori. Noi le abbiamo edulcorate, le abbiamo allargate, ma sono importantissime. Potenza della natura. Gli omega 3 aiutano, vero o falsa? Sì, molto, molto. Allora, gli ultimi studi sono questi. Abbiamo sempre osannato gli omega 3, gli acidi del pesce azzurro, come salva cuore. Adesso la cosa si è allargata e chi ha patologie articolari, a mio avviso, un pochino beneficia di questi omega 3, che poi sono il salmone, sono praticamente le alici, eccetera. Quindi possono fare solo e soltanto bene, anche se non c'è un risultato eclatante. La medicina fa sempre piccoli passi. Ripeto, siamo dei nani sulle spalle dei giganti. E dal colore... Che vuol dire i nani sulle spalle dei giganti? Chiedo scusa. Allora, se io sono bravo, va bene, sono sempre un nano, però se mi metto a sedere praticamente sui giganti, vedo ancora più lontano. Siamo dei nani sulle spalle dei giganti. Grazie. Mi pare che l'abbia detto Feuerbach. Ecco, cerchiamo di volare più bassi. Vogliamo sulle alte vette. Cerchiamo di volare più bassi a scherzo. Grazie. A te. Grazie Ciro. E dall'azzurro del pesce al verde delle piante, qualche cura? Allora, c'è una pianta molto accreditata, che pare faccia delle piccole cose, piccole miracoli, che è l'arpagofitum. C'è questo nome strano, artiglio del diavolo, perché in genere vengono creati nomi in base all'osservazione della pianta. C'è questi artigli un po' peduncolati. L'arpagofitum è considerato un ottimo rimedio per le piccole patologie reumatiche, molto piccole, però fa del bene. Ma soprattutto, ripeto sempre, sono rose di pallini da caccia le erbe. Chi ha problemi allo stomaco e di gastrite usa l'artiglio del diavolo per l'artrosi, sta meglio anche di gastrite. Quindi, diciamo, vedi Tiberio, quando la gente ridicolizza le piante, devi sapere che ogni 10 farmaci che acquisti 5 sono di derivazione vegetale. I più potenti veleni vengono fuori dalle piante. Quindi se le piante vengono usate bene, possono solo e soltanto farci del bene. No, no, ma guarda, io su questo, come dire, sposo tutte le tue teorie, perché, insomma, ho sperimentato sulla mia pelle. Tornando ai reumatismi, sono più colpiti gli uomini o le donne? La reumatologia è fortemente a carico della donna. La maggior parte delle malattie reumatologiche, probabilmente per una questione ormonale, certamente per una questione immunologica. La donna tende evolutivamente a essere protetta dalle infezioni, che fino all'altro ieri erano la prima causa di morte al mondo. E quindi, lo abbiamo visto anche con Covid, le donne tendono a rispondere meglio alle infezioni e a guarire prima. Questo implica un sistema immunitario più attivo, più efficace, che però viene ad un prezzo, ovvero il fatto che più spesso possa sbagliarsi e dare quella che si chiama l'autoimmunità. Cioè un errore per cui il sistema immunitario riconosce se stesso come dannoso. E predisposizioni genetiche? Certamente sì. La maggior parte, come tutte le malattie umane, c'è una componente ereditaria. Questa non è assoluta, non parliamo di un'ereditarietà assoluta, però se utilizziamo il modello dei gemelli monozigoti, che a me piacciono molto, sono quelli geneticamente identici, vediamo che se uno dei due ha, per esempio, l'artrite reumatoide, in più o meno un terzo delle coppie ce l'avrà anche l'altro. Questo può aumentare, nel caso ancora dell'apsoriasi, arriva fino al 60%, o può essere più bassa, nel caso, per esempio, del lupus o di un'altra malattia rara, come la sclerosi sistemica, questo può essere ben inferiore al 10%. Quindi c'è una componente genetica in tutte le malattie, ma non è assoluta. Stile di vita, prego Ciro. Ma io credo, non so se il dottore è d'accordo, non è stata ancora dimostrata una stretta, un legame molto stretto fra alimentazione e dolori reumatici, mi pare. Nel senso che se mangi ogni tanto una salsiccia, male non ti fa, capisci cosa voglio dire? Cioè, inutile osannare alcuni cibi e criminalizzare altri. Bisogna mangiare sempre bene, però non c'è una stretta correlazione fra cattiva alimentazione e... Diceva ieri Berrino che quello che conta è la non lavorazione degli alimenti. La freschezza degli alimenti, Tiberi, mia nonna nell'orto... Ma anche meno processi di... Mia nonna nell'orto ci andava la mattina e ci tornava pomeriggio. Nonna Virginia? Esatto. Ci andava due volte perché più l'alimento è fresco, più conserva quei polifenoli che sono poi sostanze antitumorali. Dobbiamo salutare stile di vita e malattie reumatiche. Direi che i messaggi sono innanzitutto quello alimentare soprattutto riguardo al peso. Le malattie reumatologiche vanno peggio in chi è sovrappeso o obeso. Quindi controllare il peso deve essere centrale. L'attività fisica è un altro grosso cambiamento degli ultimi anni. Una volta si mettevano i pazienti a riposo, oggi si sa che un'attività fisica adeguata e graduale, idealmente a basso impatto sulle articolazioni, deve essere raccomandata. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buon fine settimana. Ciao. Grazie.